Un saluto a tutti i campanieri di Youtube, ci troviamo a Vobbia, questa è la chiesa parrocchiale, abbiamo un concerto di 5 campane che adesso ascolteremo per l'Angelus nella solennità o anzi meglio commemorazione di tutti i fedeli defunti. A presto! Ed ecco siamo sul campanile di Vobbia, questa è la chiesa parrocchiale, abbiamo un concerto di 5 campane in mi bemolle che adesso ascolteremo a distesa per il mezzogiorno nella commemorazione dei defunti. Allora, vediamo un po' il campanone che è stato fuso dai fratelli Boero nel 1889, mentre le altre 4 campane sono state fuse da Luigi Boero nel 1900. Ecco qui, sono le 4 campane maggiori ad Ambrosiano, come vedete sono elettrificate, solo il campanone può andare in piedi, mentre la quinta campana, la più piccolina, come vedete ha il ceppo tipico ligure. Ecco qui, solo che è stata fermata e adesso è fissa e viene suonata solo col martello oppure con la tastiera. Adesso sentiamo il rintocco della campana maggiore. E vediamo un po' di panorama, qui possiamo vedere la Val Vobbia, questo è il torrente Vobbia da cui prende nome il paese. Ecco qua vediamo il paese, qui c'è l'oratorio della Santissima Trinità con una campana. Ancora un po' di panorama. Cimitero. Bene, adesso ascoltiamo le campane. Bene, adesso ascoltiamo le campane. Ehm... Bene, adesso ascoltiamo le campane. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.